Buonasera, io sono Maria Giulia Scolaro, sono un'azienda agricola biologica che opera in Savignone qui nella provincia di Genova. Io sono qui per parlarvi di un'esperienza che ho fatto, io lavoravo presso Olivetti, quindi mi occupavo di informatica. Nel momento in cui la mia azienda ha cominciato a ristrutturarsi, ha pensato bene di chiudere la filiale di Genova dove io lavoravo e mi ha proposto di andare a lavorare a Milano. Dato che io avevo già scelto di vivere in campagna parecchi anni prima, avevo acquistato una casa con terreno, ho pensato che tutto sommato si potesse vivere anche in un modo diverso. Dopo un lungo pensiero e una meditazione abbastanza pesante, ho preso la decisione di lasciare la mia azienda e di andare in una direzione completamente diversa. Dato che nel mio terreno c'erano già alberi da frutta e avevo già avviato un orto ad uso familiare, ho cominciato a impiantare delle piante di rose da sciroppo. A questo punto ho pensato anche di trasformare questi prodotti e di farne dei sciroppi e delle marmellate. Negli anni ho pian pianino sviluppato un discreto catalogo di prodotti. Tutto questo è avvenuto molto lentamente e direi anche molto in solitaria, nel senso che le istituzioni inizialmente hanno promesso aiuti, ma in effetti poi questi aiuti non ci sono stati. Purtroppo la piccola, chiamiamola azienda agricola, oggi non è aiutata assolutamente. Si pensa ad aiutare le grosse imprese, i grossi proprietari terrieri, ma i piccolini restano veramente nel dimenticatoio. Quindi o ci si rimbocca le maniche e si fa da sé o se no si soccombe. Il problema più grosso per quanto mi riguarda è stato quello del laboratorio, perché per poter trasformare i propri prodotti necessita un laboratorio di trasformazione a norma. I costi sono veramente alti. All'inizio abbiamo pensato con un consorzio e con un'associazione di mettere in piedi un laboratorio comune, che però purtroppo in Liguria e a Genova in modo particolare, l'associazionismo non funziona in maniera corretta, perché non c'è ancora questa mentalità cooperativa. Quindi, diciamo ad ortocollo, ho dovuto prendere la decisione di fare un investimento a casa mia. Ho ristrutturato una parte della mia casa e ho fatto questo laboratorio, dove peraltro oggi mi trovo molto bene. Mi sono anche certificata biologica e diciamo che ad oggi nella mia azienda, nel mio laboratorio produco più di 50 tipi di confetture diversi, oltre allo sciroppo di rose faccio anche altri sciroppi di fiori, di viole, di cose di questo genere. Mi sono impegnata soprattutto in prodotti di nicchia, in prodotti particolari, in prodotti che possano avere del valore aggiunto. Questo perché? Perché sennò non ci si campa. Se uno vende solo dell'insalata o vende solo degli ortaggi o semplicemente i petali di rosa, sono talmente poco pagati che non ci si campa, non ci si mangia. Il valore aggiunto è quello che ti dà la possibilità di vendere il prodotto ad un prezzo un pochino più corretto, più giusto e soprattutto il biologico oggi è percepito correttamente, cioè come un prodotto che ha sicuramente un valore superiore. Quello che ci si aspetterebbe ad esempio è, dopo tutto questo iter, di avere da parte ad esempio delle istituzioni o comunque da chi eroga i famosi contributi, un minimo di riguardo e invece questo riguardo purtroppo non c'è. Perché come al solito il PSR che viene fatto ogni due anni mi sembra, viene comunque dato a chi ha un quantitativo di terreno di un certo livello. Io che sono un microbo, una piccolissima azienda con poco terreno non vengo neanche presa in considerazione. Quindi il mio rammarico è quello di vedere che comunque, soprattutto i giovani, perché per quanto mi riguarda io avevo comunque fatto un'esperienza lavorativa, avevo comunque già acquistato questa casa con terreno e quindi ho potuto fare questo tipo di esperienza. Ma un giovane che parte oggi, che vuole acquistare una casa, un terreno, mettersi in proprio e fare un'attività, dove prende i quattrini per farlo? Andrebbe in qualche modo aiutato, valorizzato. Purtroppo tutto questo non c'è. Io oggi devo dire sono soddisfatta della mia attività, ma perché ce l'ho fatta da sola. Mi sono rimboccata le maniche, mi sono data da fare, ho cercato degli sbocchi, dei mercati. Tra l'altro quando ho iniziato io non c'erano tutti i mercatini del biologico, non c'erano tutti questi mercati anche della terra. È stato un lavoro anche di, posso dire, di ricerca del cliente, di intesa anche con le persone. E direi che in qualche modo ho dato anche un piccolo impulso alla mia vallata, io sono nel parco dell'Antola, dove tra l'altro abbiamo anche inventato delle manifestazioni. Tra queste c'è la festa delle rose, che appunto serve proprio per far conoscere il nostro territorio, il nostro prodotto e i contadini della nostra valle. Con questo io vi ringrazio e vi saluto. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.